Il castrum di Giulianova scendono in campo Torrese e Montesilvano, due compagini che finora hanno ben figurato e che hanno avuto per certi versi un andamento simile, non impeccabile fra le muramiche ed eccellente e lontane da casa. Nella Torrese torna dal primo minuto Festa dopo la doppietta in Coppa Italia in quelle di Penne, mentre nel Montesilvano parte dal primo minuto Lupinetti, classe 2005 e anche lui è andato a segno in Coppa Italia nella sconfitta per 4 reti a 1 contro il San Buceto. Pronti via e dopo 40 secondi di gioco la Torrese passa in vantaggio con Mastrilli, abila ad inserirsi sul secondo palo ed approfittare di un pregevole servizio proveniente dal settore destro. Al quattordicesimo cross di Santirocco sul quale si avventa l'estremo difensore ospite Ubertini, che però poi pasticcia perdendo il possesso della sfera, ma i ragazzi di casa non trovano il modo di depositare nel sacco la palla del 2 a 0. Ancora pericolosa la Torrese di rimessa. Al ventisettesimo Gentile in verticale serve Festa, la cui conclusione viene respinta da Ubertini, abile a difendere la propria porta in uscita. Alla mezz'ora azione insistita di Mosca, che penetra in area di rigore incartandosi però al momento di concludere a rete. Al quarantaduesimo bomba di Tini dalla lunga distanza sulla quale Ubertini vola a respingere la sfera indirizzata alla sua sinistra. Con le immagini di Mario Giacchetta ci spostiamo alla ripresa. Passano appena 45 secondi e Festa spreca la palla del raddoppio, concludendo in diagonale di poco al lato. Al decimo calcio di rigore per i padroni di casa. L'assistente del direttore di casa Marchetti dell'Aquila rileva un fallo di mano su una conclusione di Mosca. Dal dischetto va Gentile che spiazza Ubertini ma colpisce il palo. Sulla ribattuta interviene il direttore di gara ravvisando un'irregolarità. Al sessantaduesimo però la formazione di Antignani rischia l'autogol. Sul corner seguente incorna Di Lallo che però non riesce ad indirizzare adeguatamente permettendo ad Ubertini di bloccare la sfera. Al sessantasettesimo trema la Torrese con il colpo di testa di Barbarossa che finisce di poco alto sopra la traversa. Due minuti più tardi gran botta di Gentile troppo centrale e Valentini perciò riesce a spedire in corner. Al settantatresimo nuovo penalti per la formazione locale. A procurarselo è ancora Mosca su cui frana Ubertini in uscita. Dagli undici metri questa volta va Di Lallo che non sbaglia. Subito dopo a dar manforte ai suoi ragazzi entra il mister ospite Antignani. Al trentaquattresimo applausi scroscianti del pubblico di casa per lo scatenato Mosca che fa tutto bene perdendo però la lucidità al momento della battuta a rete. Al quarantesimo della ripresa Antignani bomber con quasi 300 gol all'attivo si gira in area di rigore ma la sua conclusione viene bloccata da Abate che è il protagonista della prima parata di tutto il match. Al quarantaduesimo della ripresa la Torrese potrebbe trovare la rete del 3-0 ma l'arbitro annulla la rete di Federico. Dopo 5 minuti di recupero il signor Marchetti decreta con il triplice fischio finale il successo della Torrese che batte per due reti a zero il Montesilvano. Mister Antignani il gol subito a freddo ha complicato la vita. Ma non è vero, non è vero perché è vero che abbiamo preso gol dopo un minuto però era troppo presto per complicare la vita. Il discorso che faccio io è un altro che domenicalmente vedo rigori assurdi. Posso capire quello del portiere il secondo che abbiamo preso gol ma il primo rigore ragazzi l'arbitro a un metro non fischia il rigore, il guardierine si inventa che alza la bardierina, il guardierine di qua dice che l'arbitro ha sbagliato. Io non mi lamento perché da giocatore non mi sono mai lamentato però quando vedono che hanno di fronte una squadra che ha 30 fuori quota non si possa mettere così a fare queste cose qua. Anche perché quello condiziona la partita perché poi sull'1-0 tu stai a giocare alla fine prendi gol per il 2-0, hai giocato contro la Torrese e hai perso il 2-0 che ci sta. Non è che non ci sta. Però farsi condizionare così i ragazzi giustamente poi si abbacchiano, non hanno forza di reagire perché ripeto sono tutti under. Questo è il discorso che vi faccio io, non è che c'è altro. Il gol dopo 30 secondi si recupera. Mr. Cristofari, un avvio di gara come meglio non si poteva? Sì, assolutamente sì. Abbiamo trovato l'episodio del gol dopo praticamente 30 secondi. Diciamo che la partita sembrava aver preso una strada più congeniale a noi invece poi la partita si è rivelata difficilissima. Abbiamo trovato di fronte un Montesilvano veramente agguerrito che non ci ha fatto giocare. Ci ha messo un po' in difficoltà, noi abbiamo difeso con grande ordine, abbiamo avuto qualche situazione per poter raddoppiare. Il primo tempo è andato via in maniera tranquilla. Il secondo tempo abbiamo avuto subito l'occasione per poter raddoppiare, ne abbiamo avute altre. Abbiamo sbagliato il rigore e poi abbiamo finalmente fatto il 2-0 e poi loro hanno avuto un unico episodio con la traversa. Però devo dire che noi non abbiamo giocato come sempre, si inizia a sentire un po' la stanchezza anche dopo l'impegno di Coppa. Però devo fare i miei complimenti ai ragazzi perché non era facile. Insomma, veniamo da tre risultati importanti di fila. Ci proiettano la partita di penne mercoledì difficilissimo. Quindi un grosso applauso va a loro e da domani testa al penne.